Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dell'abbigliamento da trekking invernale di Alpen Plus. Nel particolare abbiamo qua pantalone, secondo strato, un secondo strato ibrido del piumino, da uomo e da donna, e adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno dell'accensione completa. Iniziamo dal pantalone. Si tratta di un pantalone softshell con trattamento idrorepellente. È un softshell, quindi un pantalone con interno pile, molto caldo, utilizzabile quindi per una temperatura fino ai meno 5 e se vogliamo anche andare oltre possiamo semplicemente aggiungere dell'intimo termico e quindi aumentare la temperatura limite. A livello di feature, beh, innanzitutto troviamo tre tasche, due poste nella parte classica sulla vita, una un pochino più in basso sul cosciale di destra. La cosa che poi mi è piaciuta tanto è che ha un inserto nella parte bassa realizzato con un materiale bello resistente per andare a evitare di strappare il pantalone nel momento in cui andiamo ad utilizzare un rampone. E sempre nella parte inferiore è presente anche, diciamo, una parte elastica proprio finale per andare ad attattarsi e a chiudersi attorno allo scarpone. Non è presente una vera ghetta, però comunque devo dire che utilizzandolo, facendo una ciaspolata in neve fresca, il pantalone non si alza la neve, non entra nello scarpone. Lato vestibilità parliamo di un pantalone aderente, quindi dal fit che segue, diciamo, alle forme del corpo e per quanto riguarda, diciamo, la vita, questa si va a chiudere con il classico bottone e zip. È abbastanza elastica, quindi anch'essa si adatta alle vostre forme del corpo, però se avessero la necessità di stringerlo ci sono i passanti per una cintura, così da appunto andare a regolarlo secondo le vostre esigenze. Come dicevamo, è un pantalone softshell, ideale per delle ciaspolate, magari dello sciapinismo facile, diciamo soprattutto però del trekking invernale e nel caso in cui voleste utilizzarlo magari a temperature un pochino superiori, magari attorno ai 10 gradi, nelle giornate un pochino calde, c'è la possibilità di aprire delle zip laterali per far entrare l'aria. In questo modo andrete sicuramente a aumentarne la traspirabilità, che comunque non è male, però vi permette appunto di poterlo utilizzare magari anche in giornate più autunnali o primaverini. Parlando invece del secondo strato di quello più classico, innanzitutto è un secondo strato con una cerniera che arriva fino a metà, non è full zip, non ha il cappuccio però è fatto in un micropile che all'interno ci tiene veramente molto al caldo, tanto che questo qua possiamo vederlo come un secondo strato ambivalente, nel senso che possiamo utilizzarlo con sotto una maglia termica e utilizzarlo effettivamente come un secondo strato, ma vi assicuro che anche nel momento in cui andiamo a utilizzarlo come un primo strato, quindi a diretto contatto con la pelle, svolge veramente un ottimo lavoro. L'abbiamo utilizzato con una maglia termica sotto, arrivando tranquillamente anche a meno 10, poi naturalmente dipende dalla maglia termica che avete, però anche utilizzandolo come primo strato, soprattutto se poi magari volete utilizzarlo per fare più anche del trail running o comunque dello scialpinismo spinto, in quel caso lì davvero si riesce a utilizzare anche fino a 5 gradi solamente lui. Questa sua ambivalenza è molto interessante, soprattutto poi magari combinata al secondo strato ibrido che andiamo a vedere dopo. Lato vestibilità anch'essa è molto aderente, ma comunque comoda, vi consente comunque una certa libertà dei movimenti. Ha poi un collo alto, sempre apprezzato nelle giornate molto fredde e anche i polsini e la parte inferiore con il bordino elastico, sempre per limitare l'ingresso di freddo. Per quanto riguarda poi il materiale, molto morbido, come dicevamo molto caldo, ma allo stesso tempo traspirante. In particolare abbiamo due materiali, uno sul lato pettorale e della schiena un po' più antivento, un po' più pesante e poi degli inserti laterali un po' più morbidi che invece sono più traspiranti. Passando invece al secondo strato ibrido, questo secondo me è il capo più interessante di quelli che abbiamo provato. Lo chiamo ibrido perché è composto da due tecnologie completamente diverse. Abbiamo una parte in pile su schiena, parte inferiore dell'indumento e anche il cappuccio, che è il classico pile, molto simile a quello che abbiamo visto prima. Invece su tutta la parte anteriore, quindi tutta la parte pettorale, troviamo un'imbottitura più simile a un piumino. Questa imbottitura, oltre ad essere un pochino idrorepellente, ci tiene molto al caldo e soprattutto tiene molto bene gli agenti atmosferici come il vento. Davvero questa combinazione la si sta iniziando a vedere sul mercato nel mondo dei secondi strati, è molto interessante e molto polivalente. Poi come dicevamo, se lo utilizziamo come secondo strato, utilizzando quello di prima come un primo strato a contatto con la pelle, vi assicuro che potrete utilizzarlo davvero anche arrivando a meno 10 senza nessun problema. E poi l'altra caratteristica, avendo la parte anteriore, che è in simile piumino, è che possiamo andare a richiuderlo e metterlo in una taschina, in una pochette data insieme a questo secondo strato per andare a trasportarlo e vi assicuro che diventa veramente piccolo e leggero. Come diceva poi Riccardo, questo secondo strato ha il cappuccio, sempre molto apprezzato, soprattutto in inverno. Non è regolabile, però comunque svolge il suo dovere. Inoltre, stiamo parlando di un secondo strato full zip, molto comodo, molto versatile e abbiamo anche due tasche all'altezza della vita, anche esseri chiudibili con zip, nelle quali andare a riporre tutti i nostri oggetti più preziosi. Qua c'è una grossa differenza perché se quello da donna ha solo due zip all'altezza della vita, quello da uomo ha ulteriori due zip, quindi quattro in totali, che corrono all'altezza del petto, non sono molto profonde ma sono molto alte e tornano sempre utili, soprattutto vi assicuro, io ci mettevo i guanti nei momenti più caldi e davvero tornano molto utili. Peccato che ci sia questa differenza tra quello da uomo e da donna e che su quello da donna non ci siano. Come dicevamo, questo è un secondo strato molto polivalente, quasi più anche una giacca. Potete utilizzarla benissimo d'inverno, va bene anche come tre stagioni, autunno, primavera, nelle giornate magari più fredde o nelle zone d'ombra. Visto la sua peculiarità di essere comprimibile e leggera, davvero non c'è un motivo per il quale non si debba avere sempre nello zaino. Una giacca del genere la si butta all'interno dello zaino a inizio autunno, la si utilizza fino in primavera, è leggera, piccola, secondo me è davvero molto interessante come anche capo d'emergenza da avere lì, proprio se dovesse arrivare un freddo improvviso da avere qualcosa in più da mettersi addosso. Passiamo infine al piumino che Alpen Plus definisce come mezzo trapunta. In effetti questo capo è veramente estremamente caldo. Noi l'abbiamo utilizzato a fino a meno 10 e anche da fermi e davvero il comfort termico è magnifico. Di contro è un piumino estremamente voluminoso e che quindi occupa molto spazio all'interno dello zaino. Per quanto riguarda i materiali però è molto caldo, come vi dicevo, ha anche un trattamento antivento e un leggero trattamento idrorepellente. A livello di feature troviamo due tasche nella parte esterna chiuse da zip. Tutte le zippe sono anche loro idrorepellenti e sono classiche sulla parte ventrale, davvero molto semplici in cui possiamo andare a riporre qualche oggetto. Troviamo inoltre nella parte interna due tasche fatte da delle semplici retine che comunque tornano molto comode, soprattutto se magari vogliamo andare a tenere qualche oggetto vicino al corpo per far sì che non si raffreddi. E poi troviamo inoltre anche un cappuccio, anche lui molto imbottito, con le stesse proprietà antivento e idrorepellente come il resto della giacca. Diciamo comunque a livello di feature abbastanza classiche, nulla di rivoluzionario però è quel classico che torna sempre comodo, sempre utile. Per quanto riguarda gli ambiti di utilizzo di questo piumino, come dicevamo, sicuramente va bene per una classica passeggiata fino al rifugio, una ciaspolata molto tranquilla. Si può andare tranquillamente a delle temperature molto sotto lo zero, come dicevamo, di meno 10 senza nessun problema, però date la sua poca comprimibilità eviterei di utilizzarlo per delle attività dove il volume all'interno dello zaino è estremamente importante. Cioè eviterei di utilizzarlo magari per dell'alpinismo, per dello scialpinismo, eviterei di utilizzarlo anche per delle ciaspolate estremamente tecniche ed estremamente lunghe. Arriviamo ai prezzi e alle conclusioni. Iniziamo appunto dai prezzi. I pantaloni sono venduti sui 90 euro come secondo strato ibrido, il secondo strato più classico invece sta sui 50 e il piumino stiamo sui 100 euro. Come vedete non sono prezzi alti, nel senso alla fine non sforiamo mai i 100 euro, l'unico è il piumino, ma comunque secondo me lo potete trovare anche qualcosa a meno. Iniziamo dal pantalone, ve lo consigliamo? Direi di sì. Sì, veramente non ci siamo trovati molto bene. Insieme al secondo strato ibrido quello che ci è piaciuto di più di tutta la collezione e appunto per quanto riguarda il secondo strato ibrido anche lui davvero ha un capo che preso, buttato nello zaino a inizio autunno come dicevo fino in primavera davvero è veramente molto molto utile. Lo stesso ragionamento possiamo farlo per il secondo strato e per il piumino. Il secondo strato infatti è veramente caldo, veramente versatile e possiamo utilizzarlo anche come secondo strato con al di sotto una maglia termica, quindi assolutamente consigliato e vale proprio il prezzo. Per quanto riguarda il piumino invece possiamo appunto utilizzarlo come abbiamo detto per tutti quegli ambiti anche secondari all'escursionismo, al trekking e di conseguenza riusciremo a giustificare ancora di più la spesa. E detto ciò ragazzi noi abbiamo speranza di essere stati esaurenti e esaustivi anche per questa recensione, vi ringraziamo per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!